Volevo sapere se è qualcosa all'attenzione del Governo e che cosa ne pensava. Grazie. Ma guardi, penso che questa lettura che è stata data non sia corretta, cioè la lettura per la quale si rischia di renderli ingovernabili, si rischia di allontanare gli investimenti. Quello che questa norma fa di fatto è limitare il meccanismo attraverso il quale in alcuni casi si perpetuano all'infinito i CDA a prescindere dai soci. E chiaramente al mercato normalmente una previsione che rafforza il peso degli azionisti piace, per cui io non ci vedo, anzi ci vedo una norma che consente forse di avvicinare investimenti rispetto a qualcosa che non ha sempre funzionato perfettamente in passato. Grazie Edoardo Romagnoli di Tempo.